Tentativo numero due. Si va in partenza con le 12 femmine di tre anni alla via, come in precedenza distante Bionico Ors, che non vuole andare in mezzo ai cavalli. Si va a partire con le cavalle che si riallineano, favorita Baila Coiledi, insieme a Brenda Kapp e Bugia del Ronco che fanno scuderia. Sono le due scelte più appoggiate dagli scommettitori. Problemi per Bagarra. Si parte con Beautiful LP che schizza il comando nei confronti di Bibi Betts, poi Baila Coiledi, terza la corda. All'esterno è Brenda Kapp, avanti a Bugia del Ronco. Mi ha rapso di quarta lungo la corda, mentre sbanda un pochettino Beautiful LP, mantenuta in carreggiata da Marco Volpato. 15, primi 200 metri sulla dritta opposta alle tribune, in vantaggio Beautiful LP nei confronti di Bibi Betts, mentre avanza all'esterno Brenda Kapp, trascinandosi la compagna di scuderia Bugia del Ronco. Un pochettino squalificato. 400 in 30 e mezzo. E ancora prende l'esterno Beautiful LP sulle curve. Si ammucchiano un pochettino sui problemi caratteriali della battistrada. All'esterno Brenda Kapp prova a prendere di sorpresa Beautiful LP. Paletto lentissimo sulla curva di sinistra, si viene al passaggio davanti alle tribune con Brenda Kapp che attacca Beautiful LP. Lungo la corda c'è Bibi Betts, Bugia del Ronco in pariglia, avanti a Baila Coiledi. Sì, quindi ancora Bohemia Rhapsody e Birichina Pell. Un 1,5 per i primi 837, questi 400 metri, in vantaggio Beautiful LP nei confronti di Brenda Kapp all'esterno, Bibi Betts lungo la corda. Si muove ora in terza ruota Baila Coiledi che aggira Bugia del Ronco e prova a portarsi sui primi. Il parziale di Baila Coiledi che cerca di arrivare a tiro di Beautiful LP che riparte sotto la spinta dell'avversario. Sbaglia Baila Coiledi, la drittiline 15 e 9, in vantaggio Beautiful LP nei confronti di Bibi Betts. Prova a venire in terza ruota Bugia del Ronco, poi ancora Bohemia Rhapsody si muove dalle retrovie. Benvenuta di L per fare un po' di arrivo, sbaglia la battistrada e lascia in vantaggio Bibi Betts. Attaccata all'esterno da Brenda Kapp, Benvenuta di L che viene a far l'arrivo in mezzo alla pista insieme a Bugia del Ronco. Bibi Betts che è stanca, arriva Bugia del Ronco, arriva Benvenuta di L, attacca Benvenuta, si difende Bugia, Benvenuta di L che sul palo stampa Bugia del Ronco. Per il terzo posto forse, mi richina pelle in open stretch ma bisogna andare dal giudice arrivo. E' successo di tutto, 33 l'arrivo, il successo di Benvenuta di L, Francesco Virzi ingaggiato da catch per il team pistone. I colori della scuderia Usque, il successo per Benvenuta di L che sul palo ha la meglio, su Bugia del Ronco che se l'era fatta in seconda pariglia e ha sprintato in retta arrivo. Il terzo è Birichina Pelli, il successo del numero 7 di Benvenuta di L, Francesco Virzi e il team pistone, primo percorso netto per la figlia di Illusion Optic. Il papà è Main Wise AS, il successo per Benvenuta di L. Il successo per Benvenuta di L.